Ce l'abbiamo fatta ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Davide Santon ha superato le visite mediche con la Roma, mamma mia ragazzi! Io stanotte non ho chiuso occhio, ho solo pensiero, avevo una paura che voi non avete idea. Attenzione, la conferma di Sky non è ancora arrivata, sapete che io mi fido al 100% solo di Sky, però questa notizia è stata data da giornalisti romanisti che stanno dicendo che Santon sta andando a Coni a fare la seconda parte di visite mediche, altri stanno dicendo che sta andando a Trigori a firmare il contratto, quindi che si tratta o di seconda parte di visite mediche o di contratto vuol dire che la prima parte di visite mediche è andata bene, perché se non sei positivo nella prima non vai a fare la seconda, se non passi le visite mediche non vai poi a firmare il contratto. Ma io ovviamente non è che mi bastano queste fonti qua, cosa ho fatto ragazzi? Curiosando sul web, ho trovato, perché ovviamente ero alla ricerca di fonti affidabili, ho trovato la fotina del buon Davide uscire dalla clinica dove ha fatto le visite mediche, bello sorridente, con la sciarpina della Roma in uscita dalla clinica, quindi a visite mediche ultimate. Chiaro segnale che le visite mediche sono andate bene, per fortuna, mamma mia, mamma mia. Davide Santon, ti ringrazio, finalmente hai fatto una cosa da Inter, fare le visite mediche con la Roma. Scherzi a parte, io veramente rinnovo gli auguri a Santon, ti auguro veramente di fare belle cose a Roma e di smentirmi anche perché non credo più in Davide Santon, smentiscimi caro Davide, veramente godrei per te, ovviamente non ti auguro di vincere, trofei, però ti auguro di toglierti tante soddisfazioni personali, di prenderti tifosi dalla Roma che sono scettici in queste ore, li capisco ovviamente ragazzi, cioè non ci pigliamo per il culo. Ad oggi è un'inculata per la Roma, diciamocelo francamente, 24 milioni Santon e Zaniolo un'inculata, cioè è un affare pazzesco per l'Inter. Ragazzi, quindi buona fortuna comunque Davide, ti abbraccio col pensiero, smentiscimi, fai una grande stagione a Roma e prenditi il posto da titolare, così quando giochiamo Roma-Inter ci fai fare gol come hai fatto con il Sharaui all'epoca, no, scherzo, scherzo. Comunque ragazzi, allora, perché faccio questo video? Perché, oltre a questa notizia di Santonna, la goduria per Santon, lasciate un mi piace se godete per le visite mediche di Santone, iscrivetevi al canale, ragazzi, attivate la campanellina delle notifiche. Perché faccio questo video ragazzi? Perché nella giornata di ieri sono successe delle cose da chiarire, le parole di Spalletti, la difesa a tre e la sciarpa della discordia, questa sciarpa di Nengolan che ha fatto discutere, manco fosse successo chissà che. Non vi preoccupate che ci penso io, ci penso io e mi sto divertendo. Mi sto divertendo, sapete come? La vedo come una chiappa alla talpa. Tenete presente quel giochino che stai col martello, esce la talpa, pom, me gli dà il colpo. E me la vedo io. Allora ragazzi, cosa è successo ieri? Questa famosa sciarpa di Nengolan. Praticamente Nengolan non ha accettato la sciarpa dei tifosi interisti. Subito tutti i tifosi delle altre squadre, ahah, avete visto che Nengolan viene all'Inter contro voglia, e allora non vi vuole, non ha preso manco la vostra sciarpa, è schifato, eccetera, eccetera. Allora, io condiviso un link sul mio profilo Instagram, link in descrizione del mio profilo Instagram, dove racconta tutta la verità di come sono andate le cose. Ma c'è anche un video che sta girando di Sky Sport su Facebook o ovunque. Sono due video, uno in cui si vede Nengolan che è in procinto di prendere la sciarpa dal tifoso, ma c'è la ragazza detta stampa dell'Inter, responsabile della stampa, credo, che all'orecchio gli dice poi no, non prenderla, lo ferma proprio, gli mette una mano sulla spalla e lo ferma. E lui dice, eh, sì, sì. Quindi poi succede, con la cosa che ho condiviso io su Instagram, succede praticamente la stessa cosa. Dall'altra parte della recinzione del Melià c'è un tifoso che gli sta dando la sciarpa al ninja. Qui in questo caso arriva Beltrami, il procuratore di Nengolan, che si mette davanti, fa no, e se la prende lui la sciarpa. Che cosa vuol dire? Che è stato un chiaro segnale, una chiara imposizione societaria di non fare foto con i colori dell'Inter addosso, fin quando non sarà ufficiale l'operazione. Molti hanno detto, ma perché Santon allora l'ha fatta? E la Roma decide per Santon, ragazzi. Alla Roma evidentemente gliele fanno fare, perché ha voluto così. L'Inter no, perché l'Inter conosce Santon, dice, magari domani le visite mediche di Santon mi fanno di merda. Io ti faccio fare la foto con la sciarpa nera azzurra e ce lo prendiamo in quel posto. Quindi, capite? Non è stata volontà di Nengolan, ma gli è stato imposto per... Precauzione, per precauzione, fin quando non è ufficiale, di non fare foto con la sciarpa dell'Inter. Ma le farà, le farà, state tranquilli, ormè è nostro, è inutile che state là a sperare ogni cosa. Speriamo faccia schifo, alcoolizzato, vecchio, eccetera, eccetera. Gli è stato dicendo di tutto e di più. Non ha fatto manco un minuto con l'Inter, gli avete già rotti i coglioni a Nengolan, che è una roba veramente incredibile. Non solo i tifosi di altre squadre, ma i tifosi interisti stessi. Io ho letto molti ieri, eh, ci sono rimasto male, la sciarpa doveva prendere. Ragazzi, vediamo però le cose come sono andate, no? Nel video si vede chiaramente, chiaramente, che gli viene imposto di non prendere le sciarpe. Punto. Zero polemiche. Poi molti hanno detto, eh, però sembrava un funerale, eccetera, eccetera, non mi piace. Ragazzi, cioè, oltre che dovreste conoscere un po' di body language, no? Il linguaggio del corpo. Lui è uscito da là imbarazzatissimo, quando una persona si tocca il naso, così, si tocca il viso, si tocca... Vuol dire che è imbarazzato, è a disagio in quel contesto perché erano tutti là per lui, era emozionato. Cioè, ma voi pensate che i giocatori, solo perché guadagnano milioni di euro, poi non siano umani? Pensate questo? Si vedeva chiaramente che ieri era emozionato. Quel sorriso molto tirato, che si toccava il naso, così, era emozionato. Ma ci credo. A Roma un'accoglienza del genere non l'ha avuta lui. Ieri si è visto tutta quella gente lì che gli ha urlato core, eccetera, eccetera, si è emozionato. Poi, in ogni caso, se fa un taglietto oggi al braccio di Nengolano e gli esce sangue giallorosso, io non mi scandalizzo oggi. Perché, ragazzi, ha fatto battaglie con la Roma per quattro anni. Quindi è normale, anche, mettiamo caso, Nengolano, oggi, oggi, no? Decide di non accettare la scerpa dell'Inter. Oggi. Io non mi scandalizzo. Non mi scandalizzo. Perché, in ogni caso, viene, è appena arrivato dalla Roma, non è manco ufficiale, eccetera, eccetera. Inizierò a fare storie, se vedrò Nengolano tra 5-6 mesi con il broncio, che gioca male, che non si impegna, che non corre, eccetera, eccetera. Questo deve interessare a noi, ragazzi. Nengolano a Roma ha dato tutto. È normale, poi, che si senta ancora romanista in questo momento. Ma, dal momento in cui firmerà per l'Inter, farà qualche allenamento, capirà San Siro, eccetera, eccetera, sarà il primo degli interisti. Ve lo assicuro io. Perché è proprio il tipo di giocatore così, che ti dà il 100%. Sicuro. State nei certi. Alla faccia di chi ci gufa, alla faccia di chi ci rema contro, poi, in casa. Che vede sempre il negativo. E Nengolano mi è piaciuto. Ragazzi, ma che cazzo dite? Dai. Calma. Altra cosa che volevo chiarire. Spalletti difesa a tre. Ragazzi, una parola cambia tutto il senso di un discorso. Spalletti ha fatto un discorso preciso, precisissimo. Ha detto, è arrivato De Vrij e quest'anno potrò fare anche la difesa a tre. Non che quest'anno giocheremo con la difesa a tre. Quest'anno giocheremo anche con la difesa a tre. Che cosa vuol dire anche? Che nella sua zucca pelata c'è già in mente un altro modulo, ma che la difesa a tre è una variante. È una cosa in più. Quindi questa è in risposta a tutti quelli che si stanno allarmando. Luigi, che schifo. Giochiamo con la difesa a tre. A me non piace, eccetera, eccetera. Ragazzi, questa è una semplice variante di gioco. Quella che l'Inter non ha avuto quest'anno, purtroppo, perché non avevamo i giocatori anche per cambiare modulo, eccetera, eccetera. Quest'anno c'è De Vrij, abbiamo Miranda, c'è Skrini, ha speso buone parole anche per Ranocchia. Sappiamo il mister che vuole tenere sempre compatto il gruppo, eccetera, eccetera. Quindi, non vi preoccupate, la difesa a tre è una possibilità, si lavorerà anche sulla difesa a tre, ma è il modulo di partenza 4-2-3-1. Tant'è vero che il mister, quando ha parlato di calcio a mercato, ha parlato degli esterni, offensivi, che ci serve gente imprevedibile, con gol nelle corde, tra parentesi Malcom. Quindi, ragazzi, non vi allarmate, non vi allarmate e vedete bene le cose come vanno, come vanno i filmati e leggete bene le parole, ascoltatele bene, perché magari uno le riporta, Sky ieri, ah, non mi ricordo chi è stato, ha riportato, l'anno prossimo giocheremo con la difesa a tre. Ho visto già decine e decine di schermate con la difesa a tre. Non è vero, ragazzi, perché ha detto giocheremo anche con la difesa a tre, non solo con la difesa a tre. E' diverso, quindi 4-2-3-1, si parte e poi, visto che ti trovi in casa, Miranda, Skriner, De Frey, c'è i D'Ambrose che può fare il terzo centrale, ovvio che proverà anche la difesa a tre, il mister. Ci ha provato anche l'anno scorso con l'Inter, ma ripeto, non aveva il materiale. Quindi, calma ragazzi, spero di essere stato chiaro, di avervi chiarito tutti i dubbi sulla sciarpa di Nengolan, le parole di Spalletti, eccetera, eccetera. Adesso, fratelli miei, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale, lasciate un like di supporto. Se godete, soprattutto, per le visite mediche effettuate positivamente da Sant'Onno, un saluto a tutti, amici. Sempre amala e ci sentiamo in questi giorni per nuovi video. Attenzione, entro mercoledì, entro dopodomani, andrò al Melià. Allora, spero, non so se andare oggi, oggi adesso il ninja è a Rozzano, spero di riuscire a beccarlo adesso, non so a che ora tornerebbe Nengolan, però vediamo, vediamo. Se lo becco, ragazzi, ci faccio il video, ve l'avevo già detto. Ciao amici, sempre amala. Ciao amici, sempre amici.